Anche nella stanza vendetta, come per altre con ispirazione cinematografica targate Magic Escape, abbiamo riscontrato una cura nel particolare, una maniacalità marcata nel riprodurre parte delle scenografie originali della pellicola. Ricerche del dettaglio da noi apprezzate che rendono vendetta sicuramente una stanza dal fascino particolare. Essa è in grado di proiettare il giocatore in un'altra dimensione, garantendo un'immersione piuttosto convincente. Room con innesti tecnologici e scenografici molto interessanti, dotata di enigmistica variegata e ricercata. Esperienza action con contaminazioni thriller, soprattutto nella fase finale. Un piccolo inconveniente e la nostra esagerata deformazione professionale non ci hanno permesso di concludere vittoriosamente questa room. Voi ce la farete a far saltare in aria il Parlamento?